Livorno è una bellissima città di mare toscana che si affaccia sul Mar Lingu. Il simbolo di Livorno è la statua dei quattro mori che raffigura su un piedistallo Ferdinando I, ritenuto il fondatore della città e sotto di lui disposti a quadrato i famosi quattro mori in catene. Le origini di Livorno sono ignote e si perdono nelle leggende e nella mitologia. Nel 1017, il toponimo Livorno è attestato per la prima volta con riferimento ad un pugno di case posizionate sulla costa toscana, in una cara naturale, a pochi chilometri a sud della foccia dell'Arno di Pisa. Il progressivo interramento del vicino porto pisano e il grande sistema portuale della Repubblica di Pisa coincise con l'affermazione del porco labronico che fu dotato tra il XIII e il XIV secolo di un sistema di fortificazioni e di un maestoso paro, noto col nome di Fanale dei Pisani. Tramontata la Repubblica, Livorno fu venduta dapprima ai Visconti di Milano e successivamente nel 1407 ai Genovesi, per passare nel 1421 ai Fiorentini. Nel XVI secolo i Medici, signori di Toscana, contribuirono in maniera determinante allo sviluppo di Livorno e del suo sistema portuale. Bernardo Bontalenti fu pertanto incaricato di progettare una nuova città fortificata intorno al nucleo originario dell'abitato labronico, con un imponente sistema di fossati e bastioni. Il popolamento della città bontalentiana fu favorito dall'emanazione da parte dei granduchi di Toscana tra il 1590 e il 1603 delle cosiddette leggi Livornine, che istituivano il Porto Franco e garantivano agli abitanti di Livorno libertà di culto e di professione religiosa e politica, a chiunque fosse stato ritenuto colpevole di qualsiasi reato, con alcune eccezioni, tra le quali l'assassinio e la falsa moneta. Queste leggi erano dirette soprattutto agli ebrei scacciati in quel periodo dalla penisola iberica. Arrivarono in molti negli anni seguenti, soprattutto commercianti, e costituirono una florida e operosa comunità ebraica di lingua spagnola e portoghese, che sarebbe poi durata per secoli. Gli ebrei vivevano liberi a Livorno, non rinchiusi in un ghetto, come invece avveniva nelle altre città d'Italia fino all'epoca dell'Unità d'Italia. Fra di essi ci furono molti cittadini illustri, tra i quali spicca soprattutto il pittore Amedeo Modigliani. Gli ebrei Gli ebrei Gli ebrei Gli ebrei l'istituzione del Porto Franco portò a un proliferare di attività commerciali spesso legate alle intense attività portuali. Il Porto e la città furono anche soggiorno di numerose altre comunità straniere, che ai fini amministrativi furono organizzate in nazioni, i cui membri, a differenza degli ebrei, non erano ritenuti subiti toscani. Al giorno d'oggi Livorno è uno dei capoluoghi della Toscana, è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico, centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte le città toscane, è ritenuta la più giovane. Livorno, da sempre città libera e ribelle, non ha perso la sua indole. Il volo libero dei gabbiani che ondeggiano fra il cielo azzurro e il blu del mare ne ha ancora una forte testimonianza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.